E' in corso, forse da mesi, un'inchiesta della Guardia di Finanza che fa tremare il mondo agropastorale. I finanzieri si sono presentati nelle sedi di alcune cooperative ovicaprine nel Sassarese e nell'Oristanese, portando via numerosi faldoni. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Cagliari, riguarda il bando della legge regionale sulla diversificazione produttiva, per ridurre le quantità di latte di pecora destinato alla produzione di pecorino romano DOP. Proprio gli elevatori soci delle cooperative si sono aggiudicati gran parte degli aiuti regionali. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire se le varie cooperative avessero no diritto a incassare i fondi regionali, pari a circa 4.000 euro per ogni elevatore, per un totale di oltre 4 milioni, oppure se siano state create appositamente forse con il Consiglio di grandi società del settore caseario che operano nel settore della produzione del latte. Il tutto grazie anche alla regia di alcune delle più importanti industrie casearie e sarde e quindi direttamente interessate alla produzione di latte per la sua trasformazione. Ora, con le perquisizioni, ci sono i primi iscritti sul registro degli indagati. Era da prevedere e quindi da mettere nel conto che passata la festa, l'ira e il disappunto del momento tutto diventa saporifero, sfumato, incolore, privo di mordente. Così sono le reazioni del dopo Sartiglia, in particolare di quella di domenica 11 febbraio del gremio dei contadini, ritenuta la più danneggiata, causa l'eccesso dei controlli al punto da indurre il capocorse e i cavalieri a non disputare le attese pariglie in via Mazzini. Il martedì, giorno del gremio dei falegnami, già tutto era avviato verso la normalizzazione. Negli ambienti e nei ritrovi dei cavalieri resta qualche strascico polemico, in particolare di quanti intravedono un danno all'immagine della manifestazione e alla città che la promuove. Ora si attende la seduta del Consiglio Comunale di Oristano che mercoledì 21 febbraio dovrebbe discutere l'argomento. Staremo a vedere. Intanto è andata meglio a Marrubiu, con i carri e le maschere del Carnevale su Marrulleri, che avrebbe registrato 12.000 presenze, scavalcando quelle della Sartiglia di Domenica, che secondo la conta programmata aveva registrato meno di 8.000 spettatori, certo paganti. Il Presidente del Consiglio Comunale di Oristano ha avviato le procedure per il rinnovo della Commissione Comunale per l'equità tra i generi e le pari opportunità. Nella Commissione faranno parte, fra gli altri, due componenti di sesso femminile che, tramite una manifestazione di interesse, facciano pervenire il proprio nominativo al Presidente del Consiglio Comunale che procederà alla nomina, una volta sentita la conferenza dei capigruppo consigliari. Faranno inoltre parte della Commissione tutte le consigliere comunali in carica, due consiglieri in carica di sesso maschile, due rappresentanti del mondo del lavoro e espressione delle organizzazioni sindacali. I rappresentanti del mondo del lavoro e espressione del comparto datoriale e d'impresa. I rappresentanti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Due personalità segnalate da organizzazioni, movimenti, associazioni femminili che operano sul territorio nell'attuazione e per la promozione delle politiche di parità e di pari opportunità elette dal Consiglio. La Commissione si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di parità e di uguaglianza tra i cittadini, sanciti dalla Costituzione. Le candidature vanno presentate entro il 16 marzo 2018 al Presidente del Consiglio Comunale. Al via nei prossimi giorni una serie di incontri a Oristano sul tema dell'immigrazione, promossi dal Centro Diocesano di Teologia di Oristano. Cercare di capire cos'è realmente l'immigrazione di massa in Italia e in Europa negli ultimi anni significa evitare la falsificazione politicamente corretta del migrante idealizzato o demonizzato a priori, cioè dipinto alternativamente come un nemico invasore o come un fratello universale, quando invece il migrante è al tempo stesso vittima e strumento di una strategia economica e di potere, così dichiarano in un comunicato gli organizzatori degli incontri. Un fenomeno sempre esistito che dalla propaganda di oggi viene promosso, usato e rappresentato come destino ineluttabile e non contestabile, mentre ha una causa ben precisa, la globalizzazione finanziaria e dei mercati. Gli incontri saranno tenuti da Daniela Fanari, esperta in relazioni internazionali, da Don Roberto Caria, docente di teologia morale e sociale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e dall'economista Paolo Savona. Il primo incontro si svolgerà venerdì 23 febbraio dalle 18.30 alle 20.30 presso la sede del centro diocesano. Gli incontri successivi saranno il 2, il 9 e il 16 marzo. Favorire la conoscenza e la divulgazione del patrimonio archeologico e culturale della Sardegna e del Mediterraneo all'interno delle case circondariali e attuare specifiche azioni di valorizzazione in ambito archeologico e culturale nel territorio di Oristano e della provincia. Sabato 17 febbraio la casa circondariale di Massama, Salvatore Soro, ha ospitato la conferenza organizzata dalla direzione dell'istituto carcerario con l'assessorato alla cultura del comune di Oristano e le associazioni Mare Calmo e Morsi d'Arte. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che il comune e la direzione della casa circondariale hanno programmato e che scaturiscono dalla programmazione avviata con il tavolo strategico-culturale, ha affermato l'assessore alla cultura Massimiliano Sanna. L'importanza di questa attività è evidente per i risvolti educativi e sociali che la caratterizzano. Alla conferenza, insieme al direttore della casa circondariale Pierluigi Farci, all'assessore Sanna e ai relatori, hanno partecipato anche il prefetto Giuseppe Guetta, il magistrato di sorveglianza Ornella Nedda, il presidente dell'associazione Mare Calmo Marco Esposito e il direttore artistico dell'associazione Morsi d'Arte Anna Sanna. Una notizia che forse molti attendevano. Presto, il rimborso integrale dei biglietti acquistati per assistere alle pariglie acrobatiche che non si sono svolte domenica 11 febbraio a causa dello sciopero dei cavalieri. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione della Fondazione Sassartiglia nel corso di una riunione che si è conclusa nella tarda serata di ieri, lunedì 19 febbraio. Le giostre con i cavalli avrebbero dovuto concludere la sartiglia dei contadini, ma sono state annullate dagli stessi cavalieri per protesta contro i controlli antidoping eseguiti dalla questura di Oristano durante la corsa alla stella. I termini e le modalità del rimborso saranno decisi e resi notti nei prossimi giorni. Con una nota ufficiale, la Fondazione spiega che, ritenendosi danneggiata dalle procedure che hanno interferito nelle tradizionali giostrequestri, sta effettuando tutte le verifiche necessarie al fine di valutare le azioni da intraprendere, eventualmente anche legali, nell'interesse generale della Sartiglia e dell'immagine della città di Oristano. Sotto la lente di ingrandimento i trasporti pubblici sardi. Oggi è possibile giudicare l'attuale sistema di trasporto pubblico con l'ausilio dell'app Segnala un disservizio. Le principali proteste, mezzi sporchi e ma in orario, fanno discutere i risultati del secondo rapporto, luglio-dicembre 2017, sulle segnalazioni del trasporto pubblico realizzato dall'assessorato regionale dei trasporti sulla base delle indicazioni inviate dagli utenti attraverso un'applicazione. Cerchio rosso per quanto concerne i trasporti extraurbani, oggetto dell'87% dei disservizi segnalati, i motivi, orari e percorsi, le condizioni del mezzo e poi la situazione di fermate e stazioni. Un dato positivo, migliorano i tempi di reazione delle aziende e trasporti e alle segnalazioni fatte dagli utenti su ciò che non va. Se nel primo rapport oltre il 57% dei viaggiatori denunciava l'assenza di risposta, ora viene fuori l'intervento delle aziende nel 53% dei casi, con il 10% delle segnalazioni che ha avuto riscontro lo stesso giorno, il 29 entro una settimana, il 17 entro due settimane, il 25 entro un mese e il 19 entro 60 giorni. Nel 43% dei casi, dopo la segnalazione, il disservizio non si è più verificato o si verifica di meno. Si intitola Dottore Ma è Vero Che ed è online all'indirizzo www.dottoremaeveroche.it il portale web creato dai medici italiani per smontare le fake news sulla salute e rafforzare il rapporto con i pazienti. Oggi troppe persone rimangono vittime di buffale o informazioni sanitarie ingannevoli che quando riguardano la salute possono assumere una pericolosità estrema. Così dichiarano un comunicato il Presidente dell'Ordine ed Euristano Antonio Sulis. Come medici vogliamo dare un contributo di certezza partendo dalle evidenze scientifiche. Dottore Ma è Vero Che non si deve fare il bagno dopo mangiato? Dottore Ma è Vero Che la cioccolata fa bene? Dottore Ma è Vero Che parlare troppo al cellulare fa venire il cancro? Sono solo alcune delle domande che i medici italiani si sentono opporre tutti i giorni dai loro pazienti, prosegue il Presidente dell'Ordine. Ora a rispondere e aiutare i medici a rispondere ai dubbi dei cittadini arriva Dottore Ma è Vero Che che si propone come strumento privilegiato rispetto ai siti non sempre affidabili o da notizie lette distratamente o travisate, sentite da TV e giornali. Il nuovo sito, conclude Sulis, si comporrà di una sezione contro le bufale dedicata al cittadino che potrà trovare risposte semplici e argomentate alle più comuni domande in tema di salute e di una sezione dedicata agli operatori con un vero e proprio kit di primo soccorso comunicativo composta da infografiche e brevi clip da condividere con il proprio paziente durante la spiegazione di determinati argomenti. L'invito che l'Ordine dei Medici di Oristano rivolge a tutti i cittadini è quello di verificare sempre da fonti attendibili le notizie che riguardano la salute e di servirsi sempre di questo nuovo strumento informativo. Una buona notizia per gli appassionati di storia. È online su YouTube il canale ufficiale dell'Archivio Storico del Comune di Oristano. Il canale ospita già tre contributi filmati, uno sul laboratorio didattico sull'antica arte della miniatura e della pittura su legno, la natura dei colori. Il cortometraggio Come nasce una stella, a cura di Cinzia Carrus e Nicola Marongio sull'attività di Mauro Mura, uno degli artigiani che realizzano le stelle della Sartiglia e l'estrato di 30 minuti di E quindi uscimo a rivedere le stelle, il supplemento del numero 5 di Sarticularia. L'Archivio conserva le fonti documentarie utili a restituire un interessante spaccato della storia della città dal 1479 agli ultimi 40 anni, dichiarano in un comunicato il sindaco Andrea Luzza e l'assessore alla cultura Massimiliano Sanna. viene offerto un importante mezzo di consultazione in più sulla sua attività attraverso il canale dedicato di YouTube, una bella iniziativa che non mancherà di suscitare l'interesse di storici, ricercatori e tanti oristanesi appassionati della storia della nostra città.